desidero condividere con voi tre differenti lanci di razzi che presumibilmente sono andati nello spazio i videoclip che seguono li avrete già visti diverse volte mi chiedo quando osservate questi lanci se non scatta la scintilla del perché si stanno comportando così voglio dire veramente li vedete andare nello spazio è evidente per chiunque che con semplice attenzione ponderata questi lanci di razzi sono degli inganni perpetrati dalla nasa questi razzi di certo non sono andati nello spazio e i bambini lo capiscono ma gli adulti se ne escono fuori con le scuse più ridicole dicendo che semplicemente sembra che cadano il padre dirà il bambino che sembra che cada perché la terra che gira ma tutto questo non ha il consenso se credete che questo razzo va nello spazio avete dei problemi seri e dovreste parlarne con qualcuno di bravi comunque divertitevi è stato un'altra cosa che si stavano il bambino è stato un'altra cosa che si stavano I'm dancing long. I've never heard it before. It's drifting. That's bad. It's doing good so far. Is it? Is that what always happens? Does it always go like that? Yep. It looks bad to me. It's in space. Or is it? Is that it? Yep, I think that's it. Oh, no, it's going down. Look at that. 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 It looks bad to me. Is that what always happens? Does it always go like that? Yep. Is that what always happens? It looks bad to me. Oh, no, it's going down. Look at it going down. A disposizione avete il fantastico e completo indice alfabetico attraverso il sito tinelli.eu. Sempre a disposizione, in bianco e nero, il libro Il Risveglio, a colori solo nella versione e-book. END озor become literature on the writer. Go to the family! I'm very grateful. That's why I asked him and I will come back tomorrow. Grazie a tutti.